Buonasera e ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Sono stati presentati questa mattina nella Sala dei Presidenti del CONI i campionati mondiali di wakeboard che si terranno sul Lago del Salto tra il 25 e il 30 luglio, il servizio di Cristian Dioci Aiuti. Non sarà difficile accorgersi che il Reatino, in particolare il Cicolano e il Lago del Salto, saranno al centro della scena sportiva estiva. Dal 25 al 30 luglio sono attese 40.000 presenze per i mondiali di wakeboard, presentati stamattina nella Sala dei Presidenti del CONI a Roma. Numeri impressionanti per uno sport in crescita e che il Lago del Salto torna ad abbracciare dopo l'eccezionale esperienza del 2018 con gli europei. Un successo frutto del grande lavoro della Federazione Italiana Scinautico Wakeboard e Surfing e dell'omologo Organismo Internazionale, ma soprattutto dell'interesse del Reatino Claudio Ponzani, del CNVS Wave, società che ha fatto degli sport acquatici un volano per l'economia della zona. È un'occasione straordinaria per la nostra provincia, per la nostra regione, mi sento di dire proprio per la nostra nazione, perché comunque portare un mondiale in Italia e quindi proprio al Lago del Salto è una cosa forse senza precedenti per l'area geografica dove si svolgeranno e mi auguro che questa popolarità rimanga anche quando si spegneranno i riflettori del mondiale e molta gente verrà a ritrovarci per gustare le meraviglie di quel territorio. Tante autorità alla presentazione dei mondiali, sostenuti a tutti i livelli, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino alle comunità del territorio. Due, i testimonial d'eccezione per l'evento. Raul Bova, legato a doppio filo col territorio sia per la sua residenza a Roccavittiana che per l'amicizia fraterna con Claudio Ponzani e Fabio Massimo Castaldo, ex vicepresidente del Parlamento Europeo. A benedire i mondiali, il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Adesso c'è anche la possibilità di farvi diventare una disciplina olimpica ed eccoci qua, tutto questo è successo in pochi anni, devo dire la verità. È stata impressionante la crescita, forse quasi come nessuno. Io non mi sento di dire che il wakeboard, magari fra qualche quadriennio, anche questa disciplina entrerà nel programma olimpico, ma non mi sento di garantire che nessuno lo rimarrà per l'eternità perché ci sono troppe dinamiche, gli interessi, i giovani, i diritti televisivi che sono fortemente interessati. Peraltro ho visto i numeri di Tokyo sul surf e sono impressionanti, veramente impressionanti le percentuali di audience che hanno fatto e soprattutto sul digitale. La vertenza MVM va avanti, i 70 lavoratori reatini sono senza stipendio da due mesi e giovedì hanno incontrato comune, provincia e sindacati ottenendo il sostegno e un incontro con i vertici aziendali, sempre a Palazzo Città, il prossimo 28 aprile. Con i lavoratori esasperati sono già scattate 30 ingiunzioni di pagamento e una quindicina di dimissioni di lavoratori che non possono aspettare ancora uno stipendio che tarda da quasi 70 giorni. Lieve risalita dei contagi Covid nel reatino, nell'ultimo bollettino registrati 225 nuovi casi e 205 negativizzati al test di controllo con il totale dei positivi a 2.602. Risente dell'incremento anche Rieti Città, in 24 ore sono stati 81 i nuovi casi e 50 i guariti, numeri con cui il capoluogo arriva a registrare 922 positivi totali. Il drive-in di Via del Terminillo sarà aperto anche il 25 aprile con orario continuato dalle 8 alle 11. Nell'ultimo monitoraggio anche altri due decessi legati al virus che portano il totale dall'inizio della pandemia a 399. Si tratta di due donne di 90 e 84 anni, entrambe vaccinate ed entrambe considerate da ASL pazienti fragili, complessi. Sarà un weekend caratterizzato dallo sport reatino. Partiamo con il basket. Domenica il Palace Journal si vestirà di amaranto celeste in entrambe le tribune. Alle 18 andrà in scena il terzo derby della città di Rieti tra NPC e Real Sebastiani. Gioca in casa la NPC che ha vinto entrambi i precedenti scontri e all'andata in campionato ha chiuso il match 64-66. Il calcio. Il Rieti gioca domani in casa contro il Trestina alle 15, arbitra Gasperotti di Rovereto. Il Rieti di Boccolini ha un punto dalla zona salvezza a 31 punti, 15 in meno di un Trestina che nell'ultima uscita ha perso. Ha vinto invece il Rieti prima di Pasqua. Il tecnico che non ha culibali schiererà contro gli Umbri un 4-3-3. Il Rieti in serie positiva da quattro turni è ora chiamato a un tour de force che lo vedrà in campo già mercoledì e di nuovo domenica. L'Atletica, la terza prova del trofeo Fulvio Villa di Marcia, inaugura l'inizio della stagione all'aperto dello stadio Guido Baldi. Nel pomeriggio di domenica ci sarà spazio per il trofeo Perseo. In pista tutte le categorie, con le corse caratterizzate da distanze spurie. Oltre tre ore di competizioni con atleti della studentesca e da tutto il Lazio, soprattutto da Roma. Sarà un weekend lungo e caratterizzato dal meteo variabile e da qualche pioggia, quello da domani al 25 aprile. Sabato parzialmente soleggiato, con temperature tra 6 e 20 gradi centigradi. Domenica pioggia, con temperature leggermente in calo tra gli 8 e 17 gradi, mentre lunedì sarà nuvoloso, con temperature che si aggireranno tra i 7 e i 17 gradi centigradi. Oltre 9 milioni, secondo una stima di federalberghi, gli italiani che si sposteranno per il ponte, mete favorite e soprattutto le città d'arte. Ma per i reatini che resteranno in città, sarà possibile visitare la mostra di De Chirico a Palazzo Dosi, che sarà aperta anche il 25 aprile, oltre a sabato e domenica, sia la mattina dalle 10 alle 13, sia il pomeriggio dalle 17 alle 20. Il nostro Free Press si ferma in occasione della Festa della Liberazione e torna in edicola e nei punti di distribuzione abituali, mercoledì 27 aprile. Non si fermano però tutti i siti del network, con rietilife.com in cima e tutti i nostri social, come non si fermano nemmeno le trasmissioni di Rietilife TV, lunedì appuntamento con Basket Life per commentare il risultato del derby cittadino, e martedì pillole di Sport Life, con al centro l'FC Rieti, impegnato domani nella sfida col Trestina. Era questa l'ultima notizia del telegiornale di Rietilife, che torna lunedì 25 aprile, sempre alle 20.45, su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata. Grazie a tutti.